Musica Figliolo, la tua amnesia non ci aiuta. Dannazione, quei bastardi, ma quasi. La notte in cui sei sparito eri sul punto di identificare il numero uno. Ma a quanto pare, non ti ricordi più niente. Ascolta, sono venti figliolo, venti cospiratori, celati dietro a un numero. Il capitano Steve Roland era uno di loro, un famigerato numero 13. E' lui che ha ucciso il presidente. Ai suoi complici l'hanno tradito, assoldando la mangusta perché lo fecesse fuori. E infatti è morto. Ma allora chi sono io? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ben ritrovati qui su 13, il gioco che sto portando nella mia serie natalizia. Un'altra volta avevamo preso la funivia. E niente, quindi adesso dobbiamo scendere giù per incontrare Jones. Prima di cominciare, come sempre però, vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, qualora ancora non l'aveste fatto. Dato che noto che la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti. Ed è un gran peccato. Vorrei raggiungere e superare i 600 iscritti entro la fine dell'anno. Quindi mi raccomando, datemi una mano. Fatevi sotto con le iscrizioni. Che iniziamo a proiettarci verso qualche risultato più grande, magari per l'anno prossimo. Quindi dai, sotto con le iscrizioni. Sono tornati. Chi? No! Ah, qua cadevo sempre per prima volta. Merda, devo fare subito perché... Posso usare il cecchino da qua? Ma da dove sparano? Non vedo. Vabbè. Scendiamo. Ah, lì c'è il generale. Ma non mi può dare una... Cioè, io sono pieno di armi. Poteva dare una, insomma. Cazzo. Merda. Ok. No! Brutto. Cazzo. Ottimo. Dov'è? Era là. Ok. Via libera? Eh, penso di sì. Sì, via. L'elicottero è dietro la collina. Ce la faremo. Ok, quindi parla il mio personaggio. No, perché pensavo... Cazzo. Perché pensavo fosse... Mi ricordavo che non parlasse. Ricarica sto mitra. Oh, dov'è? È rimasto indietro. Ah. E muoviti. Attenzione. Ma cosa? Un altro lanciamissili! Cazzo. Morto. Andiamo? Muoviti. Eh, io ero già andato. Tu sei rimasto lì. Ma questi vanno in giro con un car armato, no? Come se fosse una macchina. Che sta a sparare? Ah, lei. Non resisterò a lungo. Arrivare. Adesso lo prendo, quella maledetta! E muori. Ma vaffanculo. Salve. L'elicottero non decone. Ho bisogno del suo aiuto, generale. Mi segua! Ah, io mi posso mettere qua al mitra. Coprici. Con piacevo. Con queste armi pisse, ragazzo, non è veramente tante. Ancora. Ottimo. Niente, mi sa che a lui si conclude già a livello. Quindi niente, vi ringrazio per avermi seguiti. Iscrivetevi a tutti i nostri social. Per rimanere aggiornati sul nostro lavoro a proposito di Mizzurna Falls. E niente, iscrivetevi anche al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Mi avvio verso la conclusione. Noi ci rivediamo nel prossimo video. No. Grazie.